È caduto da un albero da un'altezza di circa 6 metri, un volo che purtroppo è costato la vita ad un uomo di 73 anni. Questo il dramma che si è consumato questa mattina a Castiglion Fiorentino. La vittima è un uomo di origini siciliane che ha una casa a Castiglion Fiorentino. L'incidente è avvenuto attorno alle 10.20 lungo la strada regionale 71, nei pressi di un'azienda agricola che si trova vicino all'abitazione del 73enne. Subito dopo l'accaduto è partito l'allarme. Sul posto sono arrivate automediche ed ambulanza. I sanitari hanno effettuato tutte le operazioni per cercare di rianimare il paziente che era incosciente al momento dell'arrivo dei soccorsi, probabilmente in arresto cardiaco. Purtroppo non ha risposto alle manovre ed è deceduto. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando di Arezzo e i carabinieri presenti assieme alla polizia locale che hanno richiesto l'intervento della prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, ipotizzando un incidente sul lavoro. Aspetto al momento ancora tutto da chiarire. A coordinare le indagini il PM Elisabetta Iannelli.